shalom a tutti ben trovati sono qui oggi perché è uscito il mio nuovo libro che è questo si intitola la chiesa degli ultimi tempi in questo libro tratto vari argomenti partendo dal delirio di onnipotenza al controllo umano le sue conseguenze o l'apostasia che è un tema molto attuale nel corpo di cristo universale se desiderate ricevere il libro troverete l'email giù in descrizione per ora è tutto benedizioni cristo gesù e a presto grazie a tutti grazie a tutti